Benvenuti a tutti alla rubrica Domanda risponde. Oggi tratteremo degli esami di Stato 2021-2022, cioè gli esami di maturità. La prima domanda a cui daremo risposta è la seguente. Quando inizierà e quando terminerà l'esame di Stato 2020-2021 per la scuola secondaria di secondo grado? Gli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado inizieranno mercoledì 16 giugno alle ore 8.30, direttamente con il colloquio. Come è già accaduto l'anno scorso, non sono previste le prove scritte. Le commissioni si riuniranno, commissioni tutte interne con un solo presidente esterno, si riuniranno molto probabilmente alle ore 8.30 del 14 giugno 2021. Ti potranno svolgere per ogni classe quinta massimo 5 colloqui al giorno, per cui è prevedibile che una sottocommissione impieghi dai 5 ai 6 giorni per terminare i colloqui di una sola classe quinta. Una commissione comunque formata di due classi quinte e terminerà quindi gli esami intorno alla fine del mese di giugno, al 30 giugno. La seconda domanda a cui daremo risposta è la seguente. Il consiglio di classe quanti punti di credito scolastico potrà assegnare agli studenti? Beh, il consiglio di classe che sarà chiamato ad ammettere oppure anche a non ammettere gli studenti all'esame di stato 2020-2021 dispone di un massimo di 60 punti di credito scolastico. Per il credito della terza e della quarta classe ci sarà una tabella di conversione che consentirà arrivare al massimo a 38 punti. La conversione verrà fatta dal consiglio di classe in serie di ammissione all'esame. Con l'aggiunta di un massimo di 22 punti per il credito dell'ultimo anno, dell'ultima classe, della quinta classe. La terza domanda a cui daremo risposta è nella prova di colloquio dell'esame di stato 2020-2021 è prevista la discussione di un elaborato. Di cosa si tratta nello specifico? Ebbene, la discussione dell'elaborato verte sulle discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta. Per esempio, in un liceo scientifico, matematica e fisica sono prove di indirizzo e dunque sarà un elaborato di questo tipo. La tipologia dell'elaborato è coerente con le discipline appunto di indirizzo. L'argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo entro e non oltre il 30 di aprile. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso o se assegnare a tutti i candidati o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presta a uno svolgimento fortemente personalizzato. L'elaborato viene poi riconsegnato entro il 31 maggio dallo studente. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici la discussione è integrata da una parte performativa individuale a scelta del candidato della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici il consiglio di classe, sentito lo studente, valida l'opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, dove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati. Salutiamo tutti i nostri lettori, i nostri telespettatori e seguiteci sul sito www.tecnica.scola.it e soprattutto sui nostri social Facebook e YouTube. Un saluto a tutti quanti. Grazie. 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 Grazie.